Ciao a tutti, sono Martina della Samovar Viaggi e adesso vi farò vedere come si prenotano delle attività sul monitor touchscreen MSC4Me. Come vedete si possono prenotare varie attività come spettacoli teatrali, ristoranti tematici, escursioni, ristoranti tematici e pacchetti bevande e pacchetti spa. Si può vedere inoltre il daily program, avere informazioni sul turno della cena, sullo sbarco e altre informazioni utili. Adesso vi faccio vedere come si prenota un ristorante tematico. Basta cliccare su ristoranti tematici, vedere quali ristoranti tematici sono disponibili, io per esempio scelgo il ristorante Tapas e cliccare su prenota. A questo punto basta posizionare il proprio braccialetto o la propria cruise card sul dispositivo di lettura. Dopodiché ci darà conferma dell'avvenuta prenotazione. Dopodiché ci darei tutti. it Grazie a tutti